Io vi ringrazio, ringrazio chi ci sta ascoltando in diretta su Radio Padagna Libera da casa, fate sentire che ci siamo, siamo tanti, abbiamo voglia. Quando abbiamo cominciato era un po' come uno degli ultimi album di Fabrizio De Andrè, quando siamo partiti eravamo in direzione ostinata e contraria, eravamo palesemente contro vento e contro mano, tutti andavano a destra e a noi sembrava che però andando a destra finissero nel burrone, no ho sbagliato perché devo andare a sinistra io, no? Tutti andavano da una parte, quella parte ci sembrava sbagliata e noi abbiamo detto ma tutti vanno di là perché Prodi, Monti, Amato, Renzi, a parte il fatto che siamo un popolo pacifico perché dopo aver sentito queste cose, altro che Forconi dovremmo sospendere l'incontro, andare in prefettura, occupare la prefettura e non muoverci più fino a che quella gente lì non paga per quello che ha fatto. Però abbiamo detto tutti dicono che bisogna andare di là, di là ci dicono che si fanno morti e feriti, proviamo a fare qualcosa di diverso, e ma siete solo voi che andate dall'altra parte, e ma se di là muoiono, non mi fa piacere andare con tutti gli altri, essere in buona compagnia e finire male, provo a farcela da solo. E adesso siamo molto meno soli, adesso sale come queste sono piene, ma non solo a nord, da qui alle elezioni faremo incontri come questo in posti dove come non segretario, ma militante della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, anzi mi porterò anche Daniele Belotti perché il 5 maggio siamo alla mezzia terme a parlare di euro. E questo vuol dire che al di là del fatto che la Lega è, rimane e rimarrà un movimento indipendentista, punto, però siamo arrivati alla conclusione che l'indipendenza senza moneta è zoppa. Io libero la mia terra, ma poi devo chiedere il permesso di stampare moneta e di spendere i miei soldi a Berlino o a Bruxelles, ho fatto la metà dell'opera, non tutta, quindi devo liberarmi su due fronti. E quindi in quest'ottica la sala piena a Bergamo mi serve e mi incoraggia, la sala piena alla mezzia terme o a Roma mi serve altrettanto per liberarmi dalla Tenaglia. E se devo mettere qualche felpa? Ragazzi fatemi mettere qualche felpa e non stiamo lì a opinare sul colore delle felpe. L'unica felpa che non riuscirei a mettere è quella dell'Inter, poi le altre... Però se servisse alla causa, qua lo dico e qua lo nego, mi metto per una ventina di secondi anche la felpa dell'Inter. Se serve alla causa non mi faccio problemi. Vi do tre o quattro impressioni e poi nel merito entrano Mario e Claudio. Una impressione di quella comunità incredibile e bella che è la Lega. Ieri ero a Bondeno, comune terremotato della provincia di Ferrara in Emilia, dove il vescovo, il parroco e 120 mamme e papà hanno detto grazie alla Lega perché da domani 120 bimbi tornano all'asilo e alla scuola elementare in una scuola nuova di zecche antisismica costruita grazie a 800 mila euro donati dalla Lega Nord. E quindi permettetemi l'orgoglio perché la politica è tale se risolve. E quindi domani ci sono 120 bimbi che anche grazie a ciascuno di voi vanno all'asilo o vanno a scuola. L'orgoglio è quello di aver la fila di gente a firmare i cinque referendum, anche non leghisti, che ci dice grazie perché sono battaglie che magari contro la legge Fornero avrebbero dovuto fare i sindacati che sono il disastro dei lavoratori e degli operai italiani, non sono la tutela ma sono il disastro. E quindi l'orgoglio è di accogliere ai nostri gazebo, anche iscritti alla CGL, alla CIS, alla UIL, assessori del PD o di Forza Italia che dicono voi ci siete. Se uno vuole cancellare la legge Fornero ci siete solo voi. Se uno vuole togliere dalle strade, dal racket, regolamentare, tassare la prostituzione, ci siete solo voi. E l'aria sta cambiando perché oggi il Corriere della Sera, che penso sia il giornale più distratto quando c'è da parlare di Lega Nord, dedica l'intera pagina 23 al referendum sulla prostituzione promosso dalla Lega. E quindi io non inseguo Renzi sulle sue panzane, io lo marco a uomo sui temi concreti. Io voglio portargli sulla scrivania 500.000 firme per la legge Fornero e la legge Merlin e poi voglio vedere quel fenomeno, che tipo di risposte dà se votano gli italiani. Mercoledì sarà in aula la Camera, direttore Giordano, lo scomparso ministro Alfano, nel senso che sta succedendo di tutto, abbiamo avuto notizia di lui perché si è felicitato dell'arresto in Libano di Dell'Utri, chi se ne frega. Cioè in Italia sta sbarcando di ogni e lui ci tiene a farci sapere dell'arresto in Libano di Dell'Utri. Se devo scegliere, se fermare quella che ormai è un'invasione e aver Dell'Utri a spasso per Beirut, lasciamo passeggiare Dell'Utri per Bergamo, per Beirut, per Brescia, per Milano, per dove vuole lui. Quanto meno non mi costa 40 euro al giorno. E non è... Ho sentito parlare dell'Ebola, ho parlato con un infettivologo. L'Ebola probabilmente è isolato nella zona centrafricana per mille e uno motivi, anche grazie al lavoro di migliaia di volontari, di medici e di infermieri che sono là a farsi un mazzo così e che ci tengo a ringraziare perché stanno facendo veramente un lavoro incredibile. Quindi se forse, ringraziando Dio, l'Ebola verrà sconfitto là, però la tubercolosi è qua. Tra i 50 che arrivano a Carnate, a Bergamo, a Brescia, a Milano, a Belluno, qualcuno li ha visitati. E quindi basta parlare con un infermiere, basta parlare con un medico o andare in un pronto soccorso, la tubercolosi purtroppo torna in casa nostra e quindi qualcuno dei governanti ne pagherà. Mercoledì Alfano sarà alla Camera e noi come Lega chiederemo ufficialmente che venga sospesa quell'enorme cazzata che chiamano Operazione Mare Nostrum perché è l'operazione Mare Loro, perché siamo gli unici che spendono 300.000 euro al giorno. Noi oggi spendiamo 300.000 euro per andarli a prendere a casa loro. E siamo veramente... un applauso al sindaco in carica e rinnovato di Bergamo, Franco Tentorio, ovviamente. che poi porterà un saluto però è qua per impegnarsi adesso come sindaco e dal 26 maggio come sindaco se quando la prefettura chiamerà per ospitare qualche clandestino Bergamo dirà no grazie, qua non c'è posto per nessuno, abbiamo già dato. Ci sono 21 persone in galera, ancora questa mattina, ma ci sono 21 persone che magari avrebbero voluto essere qua e non sono qua, che avrebbero voluto ascoltarci per radio e non ci ascoltano per radio, sono in galera perché sono dei pericolosi terroristi delle idee. Ieri a Roma c'erano migliaia di manifestanti dei centri sociali, alcuni dei quali fermati con mazze, picconi, bastoni e bombe carta, sono tornati a casa perché quelli sono dei pacifici manifestanti. Mentre in galera ci sono 21 mamme e papà che sognano l'indipendenza, io voglio che gli arrivi il messaggio, siamo con voi, non siete soli, siamo con voi all'inizio della settimana. All'inizio, io ho parlato con parecchi loro familiari, mogli, mariti, figli e avvocati, fra martedì e mercoledì ci saranno nuovi interrogatori e le cosiddette udienze del riesame, quindi entro metà settimana sapremo se lo Stato italiano, non dico tornerà serio perché è impossibile, ma ragionerà per un quarto d'ora e quantomeno farà tornare a casa, ai domiciliari, in attesa di un processo incredibile che neanche su Saturno potrebbero celebrare, però l'importante è che questa gente entro settimana prossima torni a casa dai figli, dai mariti o dalle moglie, contiamo su questo, se così non fosse, noi con settimana prossima e la settimana di Pasqua, il giovedì santo, il venerdì santo, non li lasciamo da soli ma in galera ci entriamo anche noi. Cioè o escono loro o entriamo noi fino a che non escono loro, come parlamentari ovviamente. E vediamo chi ha la testa più dura, in maniera pacifica e non violenta, evidentemente, spero per sempre, forse, però chi vivrà vedrà. Siamo persone per bene, però un conto essere pacifici è un conto essere coglioni e quindi noi siamo pacificamente pronti a dare una mano a queste persone. Entriamo poi nel tema, e ne parleranno Mario e Claudio, un tema che io ho iniziato a frequentare, a approfondire, a studiare l'anno scorso, non 6.000 anni fa, una persona l'aveva capito da 20 anni fa, ed è la persona grazie al quale siamo qua e si chiama Umberto Bossi, perché lui 20 anni fa disse, ocio, secondo me è una fregatura, vi ricordate Foncolandia, la dose minima di pedofilia, l'euro che sarà un massacro per le nostre aziende, 20 anni fa eravamo gli uccelli del malalguri, eravamo i portasfiga, ah c'ha quelli della Lega che gufano, che tifano contro, che hanno votato contro l'euro, che dicono che sarà un problema, che hanno votato contro il fiscal compact, basti menagramo. Adesso io sono orgoglioso di essere non un menagramo, ma se serve per la mia gente un bastian contrario. Non mi interessa dire avevamo ragione noi, perché ragiono da domani in avanti, però evidentemente i numeri di cui si parlerà sono lì da vedere. Oggi chi difende l'euro o è un cretino o è in mala fede. Quindi scegliete fra le due categorie, oppure ci ha guadagnato. C'è gente che con l'euro ci ha guadagnato. Chi ha chiuso la sua fabbrica a Bergamo e l'ha aperta in Cina o l'ha aperta in Pakistan, sfruttando i bambini a 3 dollari al giorno per poi vendere a Bergamo, quello che fanno in Pakistan con l'euro ci ha guadagnato. Chi vuole fare l'artigiano a Bergamo con l'euro ci ha smenato. Io difendo chi vuole fare l'artigiano a Bergamo. E se qualche nome di Confindustria dice l'euro non si tocca, lascio a chi verrà dopo di me raccontarvi dove hanno le loro fabbriche, quelli che l'euro non si tocca. Non ce li hanno né in Valbermbana né in Val Seriana. Ce li hanno un po' più lontano. E quindi su questo occhio. Noi stiamo preparando il dopo. Io vado via un po' prima oggi perché mi tocca ad andare a Roma, senza la felpa, ci vado così, perché vado a Rai 1 in una trasmissione guardata da 4 milioni di persone, donne, uomini, massaie e bambini, a parlare del giorno dopo e quindi a lanciare qualche input come Lega, a parlare di migrazione, a parlare del dopo euro. Noi non siamo qua a combattere l'euro. Attenzione, rifiutatevi di dire domani a chi incontrata in fabbrica o in negozio io ieri ero a una manifestazione contro l'euro. È inutile, è come fare una manifestazione contro Monti. Non c'è più, è andato, è finito. Non si tratta di essere pro contro l'euro, si tratta di prendere atto del fatto che l'euro è finito, è morto, era un esperimento nato male, è finito peggio per mille e uno motivi. Noi stiamo preparando il dopo. Siamo alla fase successiva. Ci pagano per dare una risposta su cosa succede al mutuo, al conto corrente, perché si lavora di più e non di meno con una moneta più giusta. Non siamo contro l'euro. È l'euro che è contro l'euro ed è contro l'Europa. con i fenomeni del PD, magari chiedetelo anche al buongori, che dicono però l'euro ci ha salvato dalle guerre, parte il fatto che salvarsi dalle guerre con la villa da non so quanti milioni di euro, a Bergamo 10 milioni di euro, la villa proletaria del buongori. L'euro sta riportando la guerra in Europa. Mandate la Merkel e la spasso per Atene senza la scorta. E poi parlami della pace portata dall'euro. Quindi noi siamo gli ultimi difensori dell'Europa. La Lega difende l'Europa. Un'Europa diversa che l'euro sta uccidendo, perché dietro la moneta unica c'è il pensiero unico. Quello che mi terrorizza, loro parleranno di economia, di soldi, di cash, di danè, giusto, perché dobbiamo dare una risposta alla disoccupazione, al trentenne che non trova lavoro e al cinquanta-settenne che è messo peggio del trentenne che non trova lavoro. Però io penso anche a quello che c'è dietro l'economia. Dietro la moneta unica c'è il pensiero unico. Tutti uguali. Basta con i concetti vecchi della mamma e del papà, che palle. C'è il genitore uno, il genitore due, il genitore tre, il genitore quattro, il nonno sette e lo zio dodici. A Pontida, io vi aspetto, per Pontida noi faremo, chi prima arriva, prima se la porta a casa, duemila magliettine, rosa per le signore, con scritto sono una mamma e non un genitore uno o due e viva la mamma, perché l'Europa si tenga il genitore due, noi vogliamo le mamme e i papà, non gli esseri assessuati. E le mamme e i bambini saranno sul palco di Pontida, lo dico al collega giornalista Mario Giordano, quest'anno sul palco non ci saranno deputati, senatori, ma ci saranno una marea di mamme e di bambini, perché noi guardiamo avanti e la Lega si batte per il futuro. Non siamo nostalgici, abbiamo le radici ben piantate nel passato, ma quello che facciamo lo facciamo per i nostri figli. E quindi faremo vedere al mondo che stiamo correndo, stiamo sognando e stiamo lavorando per loro. Non ho altro da dire, vi posso solo dire che in quasi quattro mesi di segreteria federale, che è una sfida che mai nella vita avrei pensato di fare quando ho fatto la prima tessera della Lega a 17 anni, era il 1990, l'ho fatta perché al mio liceo di Milano, al liceo classico Manzoni, erano tutti o di sinistra o di comunione e liberazione. Io non ero né di sinistra né di comunione e liberazione. E fuori dalla mia scuola vedi un manifesto con scritto Sono Lombardo, voto Lombardo, perché c'erano le elezioni regionali, se non ricordo male, nel 90, io andai in sede di questi matti e anche la sede era in Via Vespri Siciliani. Dico, cazzo, sono Lombardo, voto Lombardo e la sede è in Via Vespri Siciliani. Però poi tutto torna nella storia. E iniziai a avvicinarmi, a appassionarmi a questo movimento che diceva che non c'è destra e sinistra, ma c'è la gente che lavora e ci sono i parassiti, che sono distribuiti equamente un po' di qua e un po' di là. E sono passati 24 anni e io rifarei tutto quello che ho fatto, errori compresi. L'importante è che una volta sbagliato si abbia l'onestà e l'umiltà di chiedere scusa. E quindi almeno i signori che abbiamo visto nel video prima, i Monti, gli Amato, i Renzi, che almeno chiedessero scusa. Avete sbagliato? Ditelo. Chi non fa non sbaglia. In Lega facciamo tanto e ogni tanto sbagliamo. Faremo degli errori anche in futuro? Sì. Faremo qualche altro errore? Sì. Cercheremo di farne il meno possibile, di stare attentissimi. Però io rifarei tutto o quasi, rivendico tutto o quasi, soprattutto di avere una comunità sveglia come non mai, unita. Sono momenti complicati, tra virgolette e chiudo con questi 30 secondi, perché si depositano le liste nei comuni, in regione, per le europee. Quando depositi le liste, lo fai da segretario di sezione, da segretario provinciale, da segretario federale, lo fai cercando di fare l'interesse del movimento, cercando di ascoltare tutti e di dare ragione a tutti, poi ti devi prendere l'onere alla responsabilità di una scelta. Quindi fai una lista per il bene di Bergamo, per il bene della Lega, ci saranno 99 persone contente, c'è quello che si incazza. Il bello della Lega è che quello che si incazza, se è militante come è militante, un'ora dopo torna al gazebo più voglioso degli altri, perché la battaglia che stiamo facendo non la stiamo facendo per un assessore, per un sindaco, per un europarlamentare, per un consigliere comunale, la stiamo facendo per un popolo. Da nord a sud. E quindi è una battaglia che deve andare oltre le scelte e le vicende personali ed è questo che ci rende, non dico migliori, non ho questa arroganza, ma diversi da tanti altri. Io non so chi candiderà Forza Italia, so che il PD candiderà la Shura Kieng, e quindi nel nord-est. Nel nord-est. Quindi mi spiace per i fratelli veneti, friulani, emiliani. Mi sarebbe piaciuto averla candidata qua, perché sarebbe interessante fare un dibattito sull'integrazione, però scappa. E le signore che scappano è perché le loro idee non valgono niente. Chi rifiuta il confronto vuol dire che ha paura delle sue idee, quindi mi spiace che la signora scappi. Però, e chiudo, io non farò e nessuno di noi farà campagna contro, non me ne frega niente. Il 25 maggio sarà un referendum, da una parte il partito unico dell'euro, il partito del passato, e dall'altro noi, Grillo ci ha definiti un movimentino, dall'altro lato noi piccolini, brutti, rognosi, cattivi, razzisti, xenofobi ed evasori fiscali, ovviamente, piccoli il movimentino che però rischia di cambiare il mondo. Perché se il movimentino ti raccoglie 500.000 firme, gli italiani cancellano la legge Fornero. Se il movimentino ti raccoglie 500.000 firme, chiudiamo le prefetture che non servono a un accidenti di niente. E quindi, se il movimentino parla di indipendenza, e poi arrivano tutti a parlare di indipendenza. Se il movimentino dice che l'euro è una truffa, è un crimine contro l'umanità, poi arrivano tutti a dire che l'euro è una truffa. Quindi, viva i movimentini, sani e frizzanti. E io penso che il 26 maggio, a urne chiuse, se ci diamo tutti una mano con le idee, a far circolare idee, questi libricini, questi volantini, mettiamoli nelle dieci caselle delle lettere di quelli che non la pensano come noi. So che dire questo a Bergamo, è difficile chiedere a Bergamo di fare gazebo, di fare volantinaggi, di fare militanza, perché io da milanese vengo a scuola a Bergamo e ringrazio i bergamaschi per la scuola di presenza e di militanza che ci danno. Però il 26 maggio togliamoci la soddisfazione di provare a cambiare il verso. Lo dice Renzi, cambia verso. Poi non so che cosa voglia dire. Noi lo cambiamo veramente, perché è l'ultima fermata del treno che può girare. Se il treno non gira il 25 maggio, se abbiamo davanti altri cinque anni di euro, di invasione di massa, di chiusura delle fabbriche e dei negozi, di disoccupazione, noi continueremo a lottare, a combattere fino in fondo per l'indipendenza, ma rischiamo di liberare una terra moribonda. Il 25 maggio possiamo frenare, freno d'emergenza, lo tiri, ci stiamo schiantando, occhio, e andiamo a parlare con chi ancora ad oggi ai sondaggi dice non sa, non risponde. Non sa, non risponde. Non guardiamo i sondaggi, che sono buoni, non sediamoci, continuiamo a correre come se fossimo ancora fermi al palo qualche mese fa, però vi chiedo solo questo, poi vi ringrazio e vi saluto, di parlare in questi 42 giorni, dovete viverli come se fosse il novantesimo di Atalanta-Brescia, uno a uno. Deve essere il novantesimo di Atalanta-Brescia, uno a uno, questi 42 giorni vanno vissuti come se fossero i tre minuti di recupero, tutto dentro, non c'è stanchezza, non c'è frustrazione, non c'è incazzatura, ci sono i tre minuti di recupero, e lì chi segna alla fine vince, perché quando ti mancano tre minuti chi fa il due a uno è quello che porta a casa i tre punti, quindi la differenza la fate voi, non tanto noi che andiamo in televisione e ci mettiamo del nostro, però la differenza la fa il contatto umano e quindi voi, se ciascuno di voi dalla sua fabbrica, dal suo condominio, dalla sua azienda, dalla sua università, porta a votare per il futuro, 5, 10, 15 persone, rischiamo di avere un rigore a nostro favore al 92esimo, poi dipende da come lo tiri il rigore, però sono 42 giorni in cui ci giochiamo tantissimo, non tutto, perché la Lega c'è e ci sarà, in questi 42 giorni ci giochiamo tantissimo, io sono felice, stupito e orgoglioso di essere segretario e militante di questa splendida comunità in battaglia. Grazie, viva Bergamo, in bocca al lupo che ce la facciamo, e grazie per quello che farete voi. Io adesso, prima di Mario e di Claudio, io ringrazio sia Mario che Claudio, perché nessuno ha chiesto loro niente, non ci devono niente, sono professionisti affermati e stimati e hanno voglia di contaminarsi con quella comunità bizzarra che si chiama Lega Nord e quindi fategli un applauso perché nessuno, nella Domenica delle Palme, potevano starsene a casa e invece la loro Domenica delle Palme la passano qua. Io, adesso mi avvio verso Linate, oggi ho una felpa da regalare a Giletti e quella di Biella purtroppo, non quella di Bergamo perché lui mi ha detto che è di Biella, così gli regalo la felpa di Biella, così Crozza è contento, Giletti è contento, un applauso al sindaco Tentorio, Bergamo città che per i clandestini è off limits. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie.